mamma mia questo per me una bella palla ragazzi questo è un posto nuovo non sono mai venuta qua e non mai nessuno si è venuto qua perché io non lo vedo le tracce delle persone guarda questa questa ragazze questa bella guarda io già così la carezzo così guarda la carezzo solo così che la vedo così bella bella però ci scopriremo ragazzi così è così guardate guardate che è meraviglia guardate che meraviglia meraviglia la canto che c'è una battuta di cindiali qua intorno guarda io non lo so voglio stare qua a carezzarla per qualche minuto bello 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 e non c'è neanche la cacciavita ho trovato solo le chiavi della porta perché mi siano dentro la mia tasca di chiavi della porta la cantina vai 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 ragazzi è il massimo